Bene, viva! Noi paghiamo troppo tazze per avere in cambio dei servizi di merda, lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire? Che lo Stato ci prende un sacco di soldi e li butta dalla finestra e quindi il primo caso è di provare. Fermi, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Fabio che c'è? Sono in diretta, dimmi. Qui tutti un cazzo, cazzo. Aspetta, 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 non lo so, evidentemente è successo qualcosa di grave, puoi dire.